Prosegue la campagna acquisti dell'Alghiero. La dirigenza giallorossa ha infatti appena definito l'acquisto di Barraco, centrocampista proveniente dalla Cisco Roma. Il centrocampo va progressivamente delineandosi, visto che è stato raggiunto l'accordo col Cagliari per la comproprietà di Andrea Cocco. Sempre con la società Rosso Blum e ancora con la formula della comproprietà, è stata avvidimata la conferma dell'esterno difensore Andrea Peana in maglia giallorossa. Le tre firme si aggiungono agli acquisti di Giacomo De Martis, Roberto Cau e Nicola Rice.